Sì, io mi auguro che in questi primi 5 anni per non rimanere lontano dai miei territori cinesini mi sentirei obbligato a una citazione dove ero tazzo, preso dal finale di Fight Club, io so una scena prima, nella scena finale Lord Norton dice a Elena Polancarter mi hai conosciuto in un periodo molto strano della mia vita, ritengo che parole del genere non sono mai state così vere da parte mia, diciamo che ognuno è superiore, i suoi tempi, forse è meglio brindare e evitare di incollire l'atmosfera la vita è fatta di pochi attimi, il resto è attesa Pionvino, 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 Pionvino Pionvino